Un'intera abitazione avvolta dal fumo denso, paura nella notte a piove di sacco, quando un incendio è divampato in una casa di via righe nella frazione di corte. I vigili del fuoco sono intervenuti sul posto per spegnere le fiamme e salvare i residenti. Fortunatamente nessuna persona è rimasta ferita. Il rogo però ha interessato il piano terra e il piano superiore, danni ingenti all'intera struttura. Le cause dell'incendio sono ora al vaglio dei pompieri, sul posto anche i carabinieri. Le operazioni di soccorso sono terminate dopo circa tre ore.